Lo Spezia ha vinto la sua battaglia al Tribunale dello Sport di Lausanne che ha rivisto la sentenza della FIFA dimezzando le sessioni di mercato bloccate ed emettendo una sanzione inferiore alla precedente. Si tratta di un accoglimento parziale del ricorso presentato dai legali della società di Via Melara ma quel che conta è che lo Spezia potrà operare sul mercato estivo. Per la precisione l'organo di massima giustizia sportiva a livello mondiale ha dimezzato la sentenza di condanna combinata dalla FIFA la scorsa estate da quattro a due sessioni e sospeso la pena per i prossimi tre anni ritenendo il numero di violazioni commesse dal club molto minori rispetto a quelle determinate dalla commissione disciplinare della FIFA. In pratica la società potrà acquistare calciatori ma in presenza di ulteriori contestazioni che dovessero eventualmente sorgere il blocco del mercato sarebbe nuovamente applicato automaticamente. Lo stop era relativo a presunte operazioni di calciomercato illecite che sarebbero state portate a termine dalla gestione precedente e che riguardavano il tesseramento di calciatori stranieri minorenni. Accogliamo con soddisfazione la sentenza del TAS. Finalmente possiamo lasciarci alle spalle questa vicenda e guardare al futuro con ottimismo e con la consueta voglia di lavorare per il bene dello Spezia Calcio. Sono le parole del presidente Filippo Latec. La sentenza odierna apre nuovi scenari in vista della programmazione della prossima stagione e noi siamo pronti a fare del nostro meglio per rendere la squadra sempre più competitiva e pronta per mantenere ancora una volta una categoria che lo Spezia Calcio ha dimostrato di meritare. Così il direttore Pecini che aggiunge cercheremo di sfruttare al massimo la boccata d'aria fresca che è finalmente arrivata dopo una stagione complicata studiando le mosse migliori per il bene del club sempre nel rispetto della nostra filosofia e di quella sostenibilità finanziaria indispensabile per poter guardare al futuro con un'ambizione ha concluso Pecini.